Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio rivelarti il significato dell'Idiom of the Week che ho selezionato per te questa settimana. The idiom of today is to have a finger in every pie. To have a finger in every pie means to be involved in several different activities or enterprises at once. To have a finger in every pie significa quindi avere le mani in pasta, un po' ovunque, essere ammanicati. Facciamo una frase di esempio. Julie has a finger in every pie. There's no business in town she may not be interested in. Julie ha le mani in pasta ovunque, non c'è business in città nel quale lei non si è interessata. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con un nuovo Idiom of the Week. E nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi questa espressione idiomatica possa essere di interesse. A presto!